Il massimo esperto di marketing è il libro più pubblicizzato tramite minchiate, l'autore lo pubblicizza tramite Noi Fregne Bionde o More, e con video improbabili, eppure molte partite IVA e imprenditori lo hanno acquistato, acquistalo anche tu. Questo non ti renderà una persona migliore, per quello non c'è speranza. Ma se non sai nulla di marketing questo è il libro giusto per te. Compralo ora subito su Amazon.